Allora vorrei scendere senza farmi male il culo ma questo è un piccolissimo No! 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 Salve a tutti ragazze, benvenuti in questo nuovo video di Unturn Me Cup Oggi andremo nella nostra casetta e Non sento i rumori, se mi sento il rumore, non è che E mi sono dimenticato un blocco Oggi ci truccheremo, questo sono io Prima del trucco, adesso Con un semplice SWIFT Mi truccherò E... SWIFT Salve a tutti ragazzi e benvenuti in Tv, a parte gli scherzi Ci troviamo finalmente di nuovo Perché vi è piaciuto Un attimo Facciamo di chiudere tutto, ho capito Ci troviamo finalmente di nuovo qui Su Minecraft senza cibo Attenzione quindi La missione di oggi sarà quella di... Aspettate Allora La missione di oggi sarà quella di mangiare Però io ho letto un commento di... Che non è un irakeno Ragazzi vi potete fidare di lui Qual era il tasto Ahmed? Ora controllo in diretta su YouTube Mentre mi crafto una spada Che ho fatto tutto Tranne una spada Anche se mi avete consigliato di usare l'hash Perché fa più danni Comunque ragazzi Se questo video non riesco a portarvi a 60fps Il prossimo video lo carico di nuovo a 60fps Però 60fps 60 like Oppure Vi ho fatto cadere sotto Spero di no Oppure vi ho rotto i timpani Spero ancora di no Oppure niente 60fps Perché mi ci vogliono 189 anni Per portare 60fps Poi vi ricordo che Sarò anche in live Non so quando Non so dove Ho sentito un coniglio Cibo 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 Non correre Non posso correre Mi piglia per il cu... Guarda che figlio di... Madonna se ti prendo ti... Ti mangio vivo Ah devo... Avete ragione Devo lasciar caricare l'arma Ma... 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 Ah l'imorto... Non mi ha dato carne Forse perché è piccolino Eh io spero solo Di non perdere la via Per andare a casa Comunque dicevo Devo leggere il commento Raga sono in piedi... Tipo... Vi prego Devo mangiare Allora io mentre... Mentre cammino Alla ricerca di cibo raga Però questo è un posto Bruttissimo Allora mo sapete che faccio Nel mentre Prendo un seme Ok Troppo mio seme Perfetto Allora facciamo così raga Allora per il momento Mi prendo un paio di semi Ehm... Sì... Sì Sette bastano E... Li pianto Tipo... Io già ho perso casa Raga... Raga... Dov'è la mia casa? Eccola porco Allora io intanto Vedo su YouTube Ehm... Sotto al video Ah ma... Cosa mi ha detto? Oh... 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 Ci arrivo Nice 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 Ma io già tenevo la spada Ma come ho fatto A non vederla? Raga chissà Secondo me Qualcuno di voi Ditemi la verità Qualcuno di voi Già stava scrivendo nei commenti Coglione Già ce l'hai la spada Io sono un contadino Che va a lavorare Senza la zappa Allora Eccolo qua il video Mentre arrivo Allora poiché è una zappa La facciamo di piedi A zappare Allora Mad dove sei C'è la seconda mano Selezionando un oggetto e schiacciando F Ma nella seconda Figo E come uso la seconda mano Sempre cliccando F Ma che serve Come faccio ad usarla Spiegate come si fa o se si può usare la seconda mano Ok qui pianteremo La nostra coltivazione di Maria E cioè volevo dire la nostra coltivazione Di Di snasnare E niente questo è tutto Saluto Antonia Allora intanto mi devo mangiare forza sta carne marcia Ragazzi spero che viene presto la notte Vorrei andare in caverna Allora mi pare di aver visto una caverna Nei dintorni Eccola Senza rompermi le ossa Ragazzi io sto morendo Questa serie credo che sarà molto ma molto corta Allora devo trovare assolutamente una caverna Perché Without C'ho un casciotto e la mia unica salvezza è questa carne marcia Che fine di merda Che fine di merda Porco due Ho sentito un zombie Cibo 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 Non so se nel 1.9 ora è più facile Tipo Non prendere la fame O roba del genere Ho fatto giro giro tondo Comunque non corriamo per non consumare la madonna Perché se consumiamo la madonna Dopo è un problema Ti rimane male E possiamo mai far rimanere male la madonna Uh la lava Guarda come lava Allora vorrei scendere Senza farmi male il culo Ma questo è un piccolissimo No 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 Figlio di putt Questo è Questa serie è stata molto lunga E Ragazzi Facciamo una cosa Allora Facciamo così Fatemi pensare Fatemi pensare Perché mi piace fare queste cose così Almeno capisco se vi piace davvero la serie Allora Facciamo così A 50 like Ragazzi Farò una di nuovo Ci riproverò di nuovo E vediamo se riesco a battere il mio record di due video E a 60 like Continuerò però 60 fps Sempre se questo riesco a caricarlo Sì 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 Ce la faccio a caricarlo Spero Quindi 50 like Nuovo episodio 60 like Cioè 50 like Ricomincio la serie 60 like Ricomincio la serie Siamo a 60 fps Durato e ciò belli Li la serie Fate ibles